Perché Widen Style Mini? Beh, perché Widen Style ormai è riconosciuto per ABK è un universo creativo di ceramiche da parati e mini perché anche se non è un formato piccolo se noi lo confrontiamo alle grandi lastre diventa una versione molto più democratica. Il formato 60-120 che a mio avviso risulta di facile inserimento in progetti che hanno come focus gli ambienti domestici soprattutto nella stanza da bagno in cui risulta complesso movimentare grandi lastre in questo modo la bellezza scenografica delle maxi lastre può entrare nell'ambiente più piccolo di casa. Quello che stava succedendo nell'industria della ceramica negli ultimi anni è che si stava andando sempre più spesso verso una materia erano tutte superfici e materiche che potevano raccontare una storia ma mancava sempre un punto il punto per me che mancava era il colore È possibile anche associare dei fondi di colori sia caldi che freddi dal cipria al grigio al verde menta per creare un look completamente omogeneo. La maggior parte dei decori si ispirano al mondo della natura ed è possibile anche decorare con dei motivi che sono graficamente molto simili a quelli delle carte da parati È bello per me poter parlare di Widenstyle Mini che propone alcune grafiche molto interessanti delle decorazioni che tradizionalmente possiamo associare a delle carte da parati hanno infatti una grana superficiale estremamente diversa dalle proposte Widenstyle monocolore che hanno una texture superficiale estremamente morbida, quasi cerosa e piacevolissima al tatto L'effetto materico è straordinariamente simile a quello di una carta si nota anche in controluce invita proprio a toccare la superficie della piastrella Questo progetto di ABK risulta per me molto interessante perché mi permette di raccontare una storia Due concetti diversi di benessere uno più privato e intimo legato alla stanza da bagno e l'altro invece più correlato al nostro bisogno di contatto con la natura che abbiamo sentito fortissimo soprattutto negli ultimi mesi Widenstyle Mini è il primo progetto che è nato durante la fase di smart working e anche la stessa creatività di questi soggetti decorativi ci ricorda appunto quanto è stato importante cercare questo contatto con la natura in questo periodo molto delicato che tutti noi abbiamo vissuto I pattern floreali di Widenstyle Mini portano la natura dentro casa e dentro i nostri banni Utilizzare dei pattern botanici floreali può permettere di creare degli ambienti che vadano a toccare diciamo quelle sensazioni di relax o piuttosto che di ricordo di posti lontani che magari si è visitato in passato che magari si sogna di visitare Avere da un lato tutte queste colorazioni e dall'altro tutti questi pattern beh sicuramente è la possibilità di creare tante combinazioni diverse tanti abbinamenti ci si può davvero divertire con Widenstyle Mini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti